Come state venite, spero come sempre alla grandissima ragazzi, sono tornato su FIFA con un episodio di Por la Primera per andare in divisione 1 Come vi ho detto in uno scorso video, purtroppo ho perso le 3 partite per la promozione in questa nuova divisione Ma fa niente perché oggi parteremo molto molto più carichi per vincere questi 9 punti subito così con la mia Serie A Quindi andiamo a cercare la partita, non perdiamo altro tempo e ci vediamo lì La prima squadra l'abbiamo trovata, eccola qui, guardatela bene perché cercheremo di sconfiggerla E l'albitro fisca ragazzi, ricordiamo che siamo in divisione 2, sarà quindi molto molto più difficile portare a casa il risultato, i 3 punti Ma io ci provo lo stesso perché dobbiamo assolutamente arrivare in divisione 1 e vincerla Perché sì, ripartiamo Eccolo lì, è partito Nainggolan, la chiede, servito Nainggolan, palo, palo Perché io devo avere questa sfortuna sempre? Menest dentro lì per Mertens che ce l'ha la velocità, Mertens può andare, Mertens Attenzione, torna indietro, Mertens, vai in mezzo, Mertens ha spazio per lui, Mertens, attenzione Mertens davanti al portiere Dove l'ha buttata? Attenzione Mettici il fisico, vai Nainggolan, l'hai visto dentro per Menest Ma chi è quel portiere, ma Courtois, non puoi parare tutto, non puoi parare tutto No, non farlo crossare, non farlo crossare Oh, ma dai, ma non può passare quella palla, non è fisicamente possibile O un difensore, o un portiere Non dico niente Inizia il secondo tempo, io non dico niente ragazzi perché è inutile sprecare il fiato Troppo lunga, però la tiene, bellissima, eccolo Dai Menest, Menest Pensavo fosse fuori Che grande gol di Menest, è sempre lì pronto Bravo Menest, bravo No No Ma vabbè Ma vabbè, ma che gol sono questi Ma cos'è, ma cos'è Ma non può, ma non può Dai Non possiamo perdere sta partita Non così Dopo tutti i tiri che abbiamo fatto in porta E ci arriva e finisce qua la prima partita 2 a 1, ma è ingiusto, è ingiusto Ecco qua ragazzi la seconda partita Sono molto molto arrabbiato per come è finita la prima Guardate qua la squadra Non so quanti crediti lì C'è Chiellini, Angolan, Tevez Non dico niente Ma andiamo in partita Vai, vai Menest Vai Menest, staglila Vai Menest, non puoi sbagliare 1 a 0 Mamma mia, c'ho una rabbia dentro 1 a 0 ragazzi, adesso sono un po' più felice No dai, ma no Ma sempre di testa Ma cosa c'hanno i miei nani? Corri, vai De Guzman Ce l'hai largo Perfetto Vai che ta' adesso Puoi andare, guardalo lì Perfetto Mertens, non puoi sbagliare Ancora lui Ancora lui 2 a 1 Bravo Mertens Bravo Che giocata, che giocata 2 a 1 Mertens, uomo partita Ti aumento lo stipendio Al posto di 2 milioni Che già sono tanti Ti te ne do anche 4 Ma sì, tanto Non sono soldi mie Chiudilo Aia No, no, no Che lui segna Poo, po, po, po Cos'è successo lì? Grandissimo Via, via Madò Stiamo soffrendo un pochino No 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 All'ottantaduesimo 2 a 2 Perché oggi devo soffrire così tanto? Perché? 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 Guai Bella Bella Vai Mertens Mertens L'ho detto che era l'uomo partita Dopo un minuto abbiamo segnato ancora grande Mertens Bellissima E finisce qua 3 a 2 I primi 3 punti in questa divisione 2 Puff Come sto soffrendo Come sto soffrendo Ed ecco qui ragazzi L'ultima squadra che dobbiamo affrontare in questo capitolo Vediamo se riusciamo a vincere Iniziamo quindi questa terza ed ultima partita Non so se avete notato che aveva lì Ribery E Benzema E un po' di giocatori Niente male Ma noi abbiamo qui Zuniga Che gliela toglie Attenzione Che passaggio Ancora Mamma mia Mertens Se ci arrivavi Dai Mertens Ripartiamo con me Ness Dalla lì in profondità Sì ora che corre Blascikowski Ci metto 3 anni Mia nonna impara a giocare a FIFA E cambio gioco Allora Ce l'hai No 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 Bravo Dalla lì Per Mertens Mertens In mezzo a 5 Mertens Ma cosa ha fatto lì È una bisce Avete visto E abbiamo fatto il primo gol con Super Mertens Questo capitolo sta facendo Faville Ancora Blascikowski No Dalla Blascikowski Che era in posizione regolare Perché mi fai questo No 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 Resistete Resistete Dalla portiere Attenzione mancano ultimi minuti Meness Fuori gioco Fuori gioco Due minuti recupero Ma vuoi fischiare Vuoi fischiare Sembra che sta durando una vita Questa partita 1 a 0 1 a 0 Dai 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 Fischia Dai E finisce E finisce Ci portiamo a casa Anche questi 3 punti Quindi ragazzi Per riassumere Siamo a 6 punti Con una sconfitta Che mi basta qui Proprio Dovrò bere 2 litri d'acqua Per farmela Andare giù Ma tutto sommato Non è andato malaccio Visto che siamo già In divisione 2 E si sa Che troviamo squadre Sempre più forti Con molti più Dindlini E noi cerchiamo sempre Di cavarcela Comunque Con le nostre squadrette E detto questo ragazzi Vi saluto Lasciate un bel pollicione In su Se vi è piaciuto il video E datemi tutto il vostro supporto Con i vostri commenti I vostri aiuti Qua sotto E ti invito ad iscriverti al canale Se è la prima volta Che mi stai guardando E vi ricordo sempre Che qua sotto Ci sono i link Di twitter e facebook Per contattarmi E farmi tutte le domande Che volete Noi ci vediamo Al prossimo video Fate come sempre I bravi Ciao ragazzi Ciao ragazzi